Oggi in Yo-Kai Watch Blasters si sconfigge Termaiale e si prova anche la moneta per la slot Kai Oni. Andiamo! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Continuano le sfide ai Blasters che, ricordo, mi servono anche come riempitivo. Quindi, nell'attesa che il livello la squadra per Benino, noi ci andiamo a fare le missioni Blasters. Dato che il livello consigliato è 4 a Campo Fiorito, andiamo. Andiamo quindi ad affrontare il maialo a Campo Fiorito. Piccolo aneddoto. Questo qui, durante la traduzione, mi hanno fatto vedere. Sergente 4 lo chiamava il mio porco caldissimo. Le gioie di avere le traduzioni dal giapponese che purtroppo non possono essere fedeli. Però, c'era anche un'altra piccola parte che non si può dire purtroppo in video, ma è davvero divertente, secondo me, lavorare a volte delle traduzioni. Altre volte, invece, no, perché succedono cose terribili. Quindi, tipo, ti sbagli a mettere su una riga una frase e ti ritrovi a doverla rifare da Campo. Io ne so qualcosa, purtroppo. Allora, sto cercando di capire dove andare, perché vorrei prendere tutte quante le sfere Oni, che ci sono sparse in giro. Direi quindi di andare qui, perché mi pare che bene o male dall'altra parte non c'è nulla. Sì, infatti, le gioie stanno qua giù. Gloria! Vai, con un colpo seccato proprio. Qui direi che si può iniziare davvero a pensare a farmare un pochino, perché ce n'è di roba. Ce n'è davvero tanta. E io voglio andare a prendere le sfere, infatti. Non voglio andare direttamente dal maialozzo. Perché devo andare direttamente dal maialozzo quando qua ci sono le sfere? Scusami, 30 minuti. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Non è proprio un male che ci diano molto tempo alla fine, infine, dai. Mamma mia il latrato, che male che ha fatto. Boia! Ha fatto davvero male. Di sorpresa, di sorpresa. Ora che sta girato. Mazzo, un amico mio, che botte che ti prendi. Non gli ho fatto nulla? No, però il latrato fa, eh, dai. Che stai fatto qua? Muoviti, vieni qui! Vai, bravi. Ah, vero, lui perde le sfere. Allora anche qui lo fa. Oh mio Dio. Stava piaciuto questo, va. Bene. Ma questo bisogna andarlo ad affrontare dentro la cosa, là, dentro le terme. Immagino. Sì, mi ero spostato, eh, però facciamo finta che non è. Eccolo, lui che lascia le sfere. Lui lascia le sfere. Vabbè, un po' l'ho preso, dai. Ma c'era le terme, là? L'era, là, le terme? Scusami, maiale. Ma che strada fa? Senti, termagiale. Tu ok che mi dai punti le cose, però... C'è un minimo di comprensione per noi che stiamo qui a giocare, cioè... Vai alle terme e basta? Falla finita? Ah, ha trovato la strada? Che se era persa? Ci vuole la GPS? Dai, andiamo. E mo' si fa il gran godo. Quelli vecchietti che ballano. Ma ci mettiamo a ballare anche noi. No, mi avete tolto i vecchi? Sì, certo. Ma ci sono le persone! Ma mi ero tolto! Sì, vabbè. Buonanotte, eh. Dovevo aspettà. Dovevo aspettare, sì. Che fa, bagno rovente? Che fa, si carica in A. Oh, mio Dio. Questo ha fatto male, oh. Wow! Ok, le torrette? Ah, ci stanno le torrette? Ah! Ok, ho capito. Bene, bene. Che faccio? Devo attivarle con A? Con che li attivo? No, no, no. Te lo scordi, car maiale. Come, come le attivo? Eh, che si sta ricaricando. Come le attivo le torrette qui? Ah, fa, proprio lui fa. Non gli apregano niente. Se si levasse... Oh, allora. Fammi vedere qua. Non è che devo andare con gli umani ad attivare le torrette del cavolo. No. Ah, invece, sì, mi sa. Maiale a mollo. Devo venire anche io qua in mezzo? Ah, sì. Ah, sì. Cosa? Ma è morto il vecchio. Non possiamo fare nulla? Adesso sì! Devo fare con i Watcher? Ma che cavolo? Ma siamo seri? Ma con i Watcher devo fare? Con i Watcher? Ma perché? Oh! Cosa? Ecco. Bene. Ma io non lo so se si può. Dai, Bruno. Guarda, Bruno. Che capriole che fa. Eh, sì, vecchio. No, cosa? Maialozzo qua. Dai. Facciamo anche questa. Ok. Non posso tornare normale se lui mi fa... Manca poco ormai, dai. Beh, facciamo anche questa. Ed è fatta, dai. Oddio, è infuocato. Quindi come facciamo? Facciamo comunque male? Sì. Lui ne fa a noi? No, non mi pare. Ah, sì. Ci prende. Oh, si è... Si è raffreddato un pochetto. Bravo, eh. Allora, devo prendere... Un umano, un umano. Jack! Sarà il caso? Bene. Usciamo, che se non ci fa il grande male. Allora, sapete che fa... Non ho capito se si è fatto male o qualcosa del genere. Ma comunque, mentre le altri... Mentre lui si fa il bagno roventico, gli altri possono... Possono... Fargli del male. Io gli faccio del male a lui. Non ho neanche l'energy, Max. Che fregatura. Posso fargli male, però. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Scusa, Jack. Scusa. Non intendevo farti prendere... Un po' di lavica nel sedere, eh. Vai, 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 vai. Sta lotta, ragazzi, è pallosissima. Non c'è un minimo di logica. Nessuno che ti dice... Guarda, ti usarei gli umani. Perché usarei gli umani? Oh, e te levi. Oh, e dai. E che cavolo. Vabbè, anche Jack prende male, non mi interessa. Ok, allora. E mo' te lo prendi in faccia. Non mi interessa. Non mi interessa. Ci muoio. Ci muoio, ma lo faccio fuori. Ci muoio, ma lo faccio fuori. Non mi interessa. Non mi interessa proprio. Vai, fatta? Perfetto. Eh, che cavolo. Eh, dai. Era pallosissima sta lotta. Mamma mia. Tutto contenti di andare a fare il termaiale. Un amico che conosco? No, una lotta pallosissima. Inutilmente lunga. E poi non ho neanche la scusa di dire è difficile. No, perché è facile, ma è solamente lunga. Non è che DC Andralink prende la scusa perché è difficile. No, fa schifo proprio sta missione. Non ha un minimo di logica. Perché devo attivare le torrette con i Watcher? Dammi dire... Oddio. Bello. Dammi direttamente il prompt con lo yokai, no? Gli yokai sono magici. Fa tipo che mette la mano così. Ho delle zampe per quelli che hanno le zampe. Via. Veloci. Iiiiita. Non so fare il cavallo, quindi lasciamo perdere. Non riproverò mai a farlo. Devo indossare la maschera, quindi. Va bene. Vediamo, allora. La prima volta mi ha molto divertito il fatto che Cole si metta la maschera e vada a correre per il bosco. La foresta, quello che è. Quindi, ora la facciamo mettere a shoot and dodge perché è il leader shoot and dodge. L'ho scelto io come il leader. Si può scegliere anche un altro come il leader. Oh mio Dio. Vai! Esattamente come funziona sta cosa? Devo fare fuori tutti? Ah, sconfiggi i nemici, sì. Ok. Bene, mi piace. Però è a tempo. Ah, posso anche accelerare? Bene. Però, allora, aspetta questi. Eccole. Facciamo lo slalom, no? Ah, basta che li passo in mezzo. Ok, di qua, di qua, di qua. Sono di qua lì io che i nemici. Ah, no, sono in realtà, non sono i nemici, sono le sfere. Ah, no, perché, ah, devo sconfiggere tutti e poi compaiono altri. Il che ha senso. Se la missione fosse fatta bene, avrebbe senso. Ok, è finita la carica lì. Andiamo a prendere una maschera? Non ci sono maschere. Cavaliere! Ma come cavaliere? Ma perché cavaliere? Scusami. Mamma mia! Che cattiveria! Vai! Burla folletto! Ma che è? Ma che yukai è burla folletto? Ah, 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 ah. Di qua, non ho fame. Divertentissima questa. Questa è bella! Ah, 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 ah. Grazie, Sergente Quadro, per questo incoraggiamento. Servirà sicuramente. Tanti a fare accolgo tutto Perché sapete da me Oh Dai Tutti quanti Un, due E Tre e quattro Vai Quattro kill Oddio quanto corre questo Mamma mia Preso tutto qua No vedi che ci lasciate la roba voi Ma perché gli altri non possono rendere le cose Dove corre questo Uscei là Tu devi mettere uscei là Quanti ne mancano Pochi dai Abbiamo quasi fatto Mi sa che anche qui si farma meglio Di Sergenti Inter maiale Ok 36 Ok 37 Fatto A posto Ok E ora c'è il grande nemico Ok No finita così Allora Meglio di quella di ter maiale Perché questo è divertente almeno L'unica cosa A favore Che è divertente Per il resto 3200 per la moneta Oni Sapete che Farmo Per arrivare fino alla moneta Oni La uso E poi dopo Ci rivediamo No Raccogli più sfere Oni possibili Facciamo questa allora Eh sfere Oni a volontà Non ho capito Guarda Però Però La cosa che voglio farvi vedere È che è pieno di sfere Questo è Questo è bello Però è comunque una missione con obiettivo Sconfiggi un tot di yokai Quindi devo anche concentrarmi sulla missione Poi c'è anche Contensapola gigante Questa è la più sfere Allora Andiamo quindi a provare La moneta Oni E vediamo che Yokai ci può uscire Chi abbiamo? Oh Bello lui Non uscirà Perché è molto difficile Che esca proprio Alla prima moneta Ma Incrociamo le dita Shogunian Darkside C'è Shadowside Guarda Me la voglio proprio godere E faccio male a godermela però Dai Ah però Roboian 00 Double O Come dice lui Va bene Dai Non è male Comunque anche oggi Termina l'episodio di Yokai Watch Blasters Nel prossimo Affronteremo Le altre missioni Che ci attendono E Penso che Presto arriveremo A uno di quei boss Più importanti Ormai ci siamo Non dovrebbero mancare Troppe missioni E Presto Molto molto presto Molto più presto Di quanto si possa immaginare Farò la missione Di Magino In realtà La sto già facendo Ma mi ha devastato Perché Si ricarica Di continuo Ma comunque Lo vedremo più in là Ad ogni modo Vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Trovate tutti quanti I link necessari Per seguirmi dove volete Se vi va E noi Ci vediamo ovviamente Domani con un nuovo video Bye bye Ciao Ciao Grazie a tutti.